Ermanno Piegoni, dobbiamo parlare di mercato, adesso ne parliamo, però siamo emotivamente un po' sconvolti perché siamo al fisico finale del derby con il Siena. Diceva prima, una partita così non so se è mai capitata in carriera. No, obiettivamente non era mai capitata, che dall'86esimo al 92esimo qualcosa si ribalta un 3-0, raggiungendo un pari, anche se con due calci di rigore. Obiettivamente da un'apoteosi, da una prestazione eccezionale dell'Arezzo oggi abbiamo adesso il rammarico di tre punti buttati al vento, sicuramente certi episodi, un po' di sfortuna, qualche magari errore. Aver staccato la spina troppo presto può darsi che questo sia anche avvenuto, però è stato un errore imperdonabile perché oggi c'è stata una scuola sola in campo e questa è stata l'Arezzo. La partita perfetta, una di quelle partite da ricordare, tra l'altro nella storia dei derby mai l'Agenza aveva fatto tre gol al Siena qui in casa e quindi c'erano tutti i presupposti per davvero un risultato che poteva essere un crocevia importante. Il Siena non è esistito, l'abbiamo annichilito. Tre gol, l'abbiamo sovrastato sul piano tecnico, sul piano fisico, sul piano del gioco. Una squadra che tra l'altro veniva da due mesi che è imbattuta. Certo, obiettivamente non so ancora spiegarmi a caldo cosa è successo negli ultimi minuti finali, anche se ci sono due calci rigore. Questi non vanno dimenticati. Giusti, non giusti, dubbiamente forse abbiamo un po' staccato la spina troppo presto. Un arbitro, quest'oggi probabilmente ha preso decisioni giuste, era lo stesso di Juventus-Arezzo dove invece lì qualche rammarico c'era, su due gol dei tre juventini. No, direi un ottimo arbitraggio, anche se mi riservo di vedere l'immagine di due calci rigore, però devo dire che è stata una direzione di gara molto culata, molto giusta, quindi l'arbitro non c'entra proprio niente. Dobbiamo solo fare un grande mea colpa. Tra l'altro, tra i presupposti che potevano fare, e lo ricorderanno, comunque il debutto di Rolando, anche questo, un giocatore che debutta e dopo pochi minuti entra in segno e fa anche un gran gol come ha fatto Rolando, insomma, è la bontà della vostra scelta. Sì, direi tutti segnali positivi, perché giudichiamo la prestazione della squadra, obiettivamente. Siena dove era? Non c'era proprio in campo. Tre gol meritati, una prestazione superlativa dell'Arezzo. E purtroppo è successo quello che non doveva succedere e questo lascia molto amare in bocca. Adesso però bisogna riboccarsi le maniche. Chiaramente ripartire. Il campionato è lungo, mancano ancora 13 partite. Certo che in questo momento l'amarezza in noi tutti è tantissima e mi dispiace soprattutto per il pubblico che ci teneva molto a questa gara. Era stata premiata con una prestazione, a mio avviso, superlativa, macchiata da questi dieci minuti finali che onestamente non sono giustificabili. Comunque guardando la panchina quest'oggi si è capito quanto l'Arezzo si è rinforzato. Guarda che giocatori che erano in panchina e quindi anche quante scelte aveva e ha in questo momento il campo. Sì, ovviamente è una squadra completa in ogni reparto. Una squadra che può sicuramente lottare per le prime posizioni della classifica. Non bisogna però commettere gli errori che abbiamo messo oggi. Purtroppo è un'altra di quelle partite, ne abbiamo qualcun'altra ancora di non lontana memoria che ci ha lasciato amarezza con la cara resa e la partita di Novara. Però è anche vero che questa squadra ha un cuore grande, gioca bene a calcio, è un bel gruppo, è ottimamente allenata. Certo, non possiamo però giudicare questi dieci minuti veramente negativi con tante situazioni positive che questa squadra ci ha regalato fino ad oggi. Quindi adesso so che è dura, immagino che è dura anche nel morale dei ragazzi. Però bisogna riboccarsi le maniche. Due parole su Butic, è un giocatore che vi piaceva da tempo e è un giocatore che appena c'è stata la possibilità il torino si è ricordato nella ghezza. Sì, indovviamente, perché l'avevamo chiesto in un'estate, poi era andato a Terni dove c'era la possibilità all'epoca dei riprescaggi in Serie B, i rapporti con il Torino, con l'amico Gianluca Petrachi, ci hanno permesso di ritornare in pista con questo ragazzo, nonostante le tantissime richieste. Sarà un'altra freccia nell'arco di questa squadra, ma come tanti altri, quindi io credo, come giustamente è evidenziato, che abbiamo anche una panchina molto molto importante, il campionato è lungo, ci sono 13 gare, speriamo di arrivare più in alto possibile. E poi avete tenuto giocatori come Basit, come Buglio, è stato difficile tenerli? Ma obiettivamente bisogna dare atto al presidente della Cava, che ha sorpreso anche me, nonostante tanti anni di esperienza con il calcio. Certo, non era facile lasciare andare Buglio, perché è un giocatore che ha caratteristiche importanti in questa squadra, però è anche vero che il presidente della Cava ha rinunciato a tanti soldi, gli va dato merito, gli va riconosciuto questo impegno e sono dispiaciuto tantissimo che la squadra proprio oggi non ci abbia ripagato tutti con una vittoria che avremmo meritato sul campo. Poi c'è questo affare propria scienza, è pressoché certo che la classifica cambierà nei termini che l'Arezzo si attende? Ma c'è una sentenza, quella della Corte federale, che parla chiara, quindi nel momento in cui viene radiata definitivamente la propria scienza vengono cancellati tutti i risultati del giorno andata, in questo caso l'Arezzo è primo in classifica. Oggi dico però a pari punti con la Provercelli, stavo per dire da solo, peccato però questi due punti persi per strada, che sono purtroppo, direi, importanti e potevano essere importanti soprattutto per il morale, anche per l'ambiente, però non possiamo, diciamo, macchiare un campionato così importante di questi ragazzi con questi dieci minuti finali che se per quanto ci amareggiano però non ci devono far perdere la bussola. Ma tutta finale dal canto ha detto, no? Ho detto ai ragazzi non guardiamo chi gioca chi più chi meno, tentiamo l'impresa, perché di questo parleremo, no? Di impresa. Ma l'Arezzo può dire la sua anche per il primo posto? E perché no? Può fare tutto, purché non commettere l'errore di questa sera? Diciamo che dal canto ha detto una cosa giustissima, questa è una squadra che ha grandi valori, vorrei morali, valori tecnici, che deve correggere come tante squadre, magari determinati errori, quindi però è un lotto difficile perché ci sono tante squadre che si sono rinforzate, ci sono le tre che sono retrocesse alla B, ci sono queste due squadre Provercelli e Entella che viaggiano a ve le spiegate, noi però finché ci abbiamo la classifica che ci dà ragione non molliamo, ci crediamo e andiamo avanti fino alla fine.